Seconda Domenica d'Avvento dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, non appena Giovanni nel carcere sentì delle opere del Cristo, mandò due suoi discepoli a chiedergli «Sei tu quello che deve venire o attenderemo un altro?» E Gesù rispose loro «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete udito e visto. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebrosi sono mondati, i sordi odono, i morti resuscitano, i poveri sono evangelizzati ed è beato chi non si scandalizzerà di me». Andati via quelli, Gesù incominciò a parlare di Giovanni alla Folla «Cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito mollemente? Ecco, quelli che vestono mollemente abitano nelle case dei re «Ma cosa siete andati a vedere? Un profeta?» «Vi dico anzi, più che un profeta, questi, in vero, è colui del quale è scritto «Ecco, mando il mio angelo avanti a te, affinché ti prepari la via».» Sofuno Grazie.